Noi siamo pienamente nella quarta ondata Covid. La diffusione del virus è maledettamente accelerata. Siamo al punto che, continuando questa crescita di contagio, dovremo chiudere reparti ordinari e riaprire reparti di terapia intensiva. In Campania abbiamo un tasso di occupazione delle terapie intensive che è molto basso, 3,5%, rispetto ai posti disponibili. Ma abbiamo dato ieri indicazione ai nostri direttori generali di riattivare i posti di terapia intensiva, a cominciare dagli ospedali modulari che abbiamo realizzato, cioè dalle terapie intensive modulari, oltre 70 solo all'ospedale del mare a Napoli e poi a Caserta e al Salerno. Dobbiamo riaprire le terapie intensive. Per la gioia di quelli che ci facevano osservare criticamente che le terapie intensive che avevamo inaugurato erano vuote. Contenti tutti. Si stanno riaprendo e rioccupando. Dobbiamo prepararci a questa ondata e dobbiamo sapere che pagheremo un prezzo, perché se la crescita del contagio continua e dei ricoveri ospedalieri continua non c'è niente da fare. Prima o poi dovremo rallentare l'assistenza per altri pazienti, per riaprire i reparti Covid. Voi capite ovviamente che è una cosa che fa male, che fa male. È il rispetto alla quale comprendiamo tutti quanti come sia necessaria la prudenza e la responsabilità.